Questa storia del caso Cucchi mi fa riflettere su un fatto che riguarda anche la Campania, sabattino, perché? Il garante è un garante delle persone private della libertà, anche lo dico a voi, non è un segreto, io posso intervenire anche quando fermo una persona a quest'ora, anche quando la quest'ora per 3-4 giorni ti tiene lì pronto per uscire, ma le nostre carceri sono piene di agenti di polizia penitenziaria, non per maltrattamenti, qui a Santa Maria sono agenti che stanno lì perché hanno portato droga nelle carceri, hanno portato telefonini nelle carceri e di ieri anche l'ultimo arresto di un agente penitenziario che ha introdotto droga nelle carceri, altro che diciamo elicottero, non so che altro, drone, quindi lo dico perché è un sistema che va riformato, quello della giustizia, è un sistema che va riformato, non è che io sono tutore dell'ordine e metto in campo la divisa con disonore, quindi attenzione, in quei luoghi poi tu te la prendi con una persona, come nel caso di Cucchi, con un problema in più relativo alla tossicodipendenza e molte volte nelle carceri te la prendi con delle persone che possono essere anche povere o ricche a cui chiedi la tangente per portare droga e telefonini, questo mi indigna e mi fa provare amarezza perché anche su questo la politica non interviene.